Buongiorno, ben ritrovati, sono le 7 del mattino del lunedì 19 di agosto e questa è la rassegna stampa di Omnibus News. Rassegna stampa che, come era abbastanza prevedibile, ha una certa diciamo così monotonia nei titoli di apertura dei quotidiani di stamane perché, come potete immaginare, tutti senza distinzione si riferiscono in qualche modo alla crisi. Le variazioni che troveremo sono, diciamo così, di valutazione, di valutazione politica rispetto a quello che viene ritenuto più o meno importante. Ci sono un paio di eccezioni che però andremo a vedere fra un momento. Innanzitutto cominciamo con i quotidiani più importanti, come il Corriere della Sera, ad esempio, ha un'apertura abbastanza neutra, in qualche modo scontata, se volete, il Movimento 5 Stelle chiude con Salvini, è quello che era successo ieri. C'è stato questo incontro, questo summit nella villa di Bibbiona di Grillo in Toscana. Da lì lo Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle fa sapere che non ci sono sostanzialmente margini per ulteriori trattative. E allora eccolo qua appunto il titolo. Il Movimento 5 Stelle chiude con Salvini. La crisi diventa più concreta, dice il Corriere della Sera, l'idea di un patto giallo-rosso. Grillo appunto riunisce i capi e definisce Matteo Salvini inaffidabile e vuole, attenzione, un contratto con il Partito Democratico. Un contratto alla tedesca è stato detto, ma insomma anche perché di questo governo si è parlato come del governo Ursula o Ursula secondo l'italianizzazione che ne ha data ieri Romano Prodi. Intanto cosa succede? Il leader interleghista, sottolinea, il Corriere della Sera si appella alla piazza. Ieri era anche lui in Toscana, alla Versiliana e si è rivolto per l'appunto ai propri, a coloro che lo sostengono dicendo state pronti. Il retroscena di Tommaso Labate vedete addirittura si spinge avanti a ipotizzare un Conte Bis, il che significa Conte Presidente del Consiglio, mentre Marzio Breda, il quirinalista Marzio Breda, parla di un governo politico o istituzionale, quindi queste qui sarebbero le ipotesi del Colle. Dalla prima pagina del Corriere della Sera troviamo altre notizie di strettissima attualità, una che riguarda le vicende della Open Arms, delle quali vi parleremo fra l'altro più avanti nel telegiornale perché ci sono ulteriori sviluppi rispetto alla ulteriore offerta di andare alle Baleari fatta dal governo spagnolo. Ma intanto sul Corriere della Sera troviamo un'intervista fatta a Richard Gere, che come sapete nei giorni scorsi era stato proprio a bordo della Open Arms, che vorrebbe incontrare il Vice Premier Salvini in questo senso, al quale direbbe che far leva sulla paura è una cattiva politica, questo Richard Gere, mentre a centropagina, a parte le notizie di calcio che riguardano Mario Balotelli, invece la cronaca purtroppo ci conferma la scomparsa, la morte del giovane escursionista francese Simon Gauthier che era scomparso nel Cilento ormai nove giorni fa. La prima pagina della Repubblica, vi dicevo le notizie, sono quelle la sensibilità con cui vengono raccontate, ovviamente è diversa, il giornale diretto da Carlo Verdelli, vedete più tranchant e sotto la testatina, la settimana decisiva, perché ormai come tutti sapete domani alle 15 Conte sarà al Senato, così scrive Grillo licenzia Salvini dal fondatore ai vertici del 5 Stelle che parlano di alleato sleale non più credibile, però ora si aspetta un segnale da Zingaretti, mentre l'altra frase che viene sottolineata sulla Repubblica di Salvini è la seguente, fanno un patto col PD, dovranno passare sul mio corpo pronto alla piazza, quindi si rimarca per l'appunto quell'appello ai propri sostenitori. Repubblica si spinge anche a scrivere, mentre avevamo visto sul Corriere si parlava di un governo Conte, Repubblica da Giovannini a Gabrielli i nomi in campo per il governo di legislatura, quindi altri possibili, diciamo così, presidenti del Consiglio. La foto notizia in prima pagina è quella di Hong Kong, della manifestazione enorme di Hong Kong, gli ombrelli aperti simbolo dei manifestanti, ieri in piazza 1 milione e 700 mila persone. Questa invece è l'apertura della stampa, vedete si parla appunto di prove di governo fra Grillini e PD con Salvini che non si arrende. Per quello che riguarda l'Open Arms viene riportata questo episodio accaduto ieri di 5 migranti che si sono buttati a mare della difficilissima situazione a bordo e vi faccio vedere anche, prima di andare in pubblicità, la prima pagina del fatto, vedete qui si parla di un Salvini incollato alla poltrona con il Movimento 5 Stelle con Grillo che gli dà l'addio. Bene, adesso noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, dopodiché vi faccio vedere gli altri giornali, quelli diciamo così più vicini alla destra, al centro-destra e vedrete con toni completamente diversi altre notizie. Allora riprendiamo la nostra rassegna stampa, il giornale che vi volevo far vedere adesso e che inaugura la serie dei quotidiani di destra e che assolutamente non ci possiamo perdere è il giornale per l'appunto che presenta una, eccola qua, lo vediamo, no, ecco Salvini chiama le piazze, lo vedete qua, l'intervista a Matteo Salvini, siamo riusciti, vedete, io vedo sotto i tecnici che muovono il touch screen perché non so se stiamo usando il cartaceo o il touch, scusate, eccolo qua. Comunque, vi dicevo, Salvini chiama le piazze è il titolo di apertura del giornale perché, vi dicevo, ieri Salvini era in Toscana, alla Versiliana non solo ha fatto un comizio ma è stato anche intervistato dal direttore del giornale, Alessandro Sallusti, che così per l'appunto racconta questa, eccolo qua, siamo riusciti a ottenere, scusate, io intanto faccio una rapida, no, non ci siamo ancora riusciti, mi stanno spiazzando. Allora, andiamo intanto a leggerci questa intervista che vale la pena, poi dopo riparliamo del resto. Sallusti comincia questa intervista parlando subito di immigrazione perché in realtà vedremo che il tema dell'immigrazione è stato ovviamente riutilizzato moltissimo da Salvini, che quindi così dice la prima domanda di Sallusti di Salvini. Dieci giorni fa su Repubblica la definivano capo dei barbari. Ora Saviano dice che sulla Open Arms finirà in carcere, ci spiega cosa succede ed è interessante appunto la risposta di Salvini che dice riassumo in 30 secondi una vicenda che non accadrebbe in nessun altro paese al mondo. Una nave spagnola di una ONG spagnola 17 giorni fa raccoglie 150 immigrati in acque libiche, arriva in acque internazionali e maltesi, che quindi o sono internazionali o sono maltesi però, e fa ricorso al TAR del Lazio chiedendo di entrare in acque italiane. Il Tribunale italiano, da loro ragione, cancella il decreto sicurezza e dice che la nave spagnola in acque maltesi deve arrivare qua. Il commento di Sallusti è surreale, non è finita, continua Salvini e dice ci dicono che devono sbarcare 13 malati gravi, li visitano e si scopre che non ce ne sono, si appellano al Tribunale dei minori italiano, dicono che ne vanno sbarcati 17, chiedo di dimostrarlo, il Premier li fa sbarcare, comunque to, in 9 si scoprono maggiorenni, oggi, in realtà ieri appunto l'emergenza sanitaria, salgono a bordo i medici e la smentiscono. E qui poi continua l'intervista, io vorrei vedere se riusciamo ad aprire la pagina e andare avanti, chiedo ai colleghi, eccolo qua, mi stanno facendo un cenno, sì, no, non capisco, cartascio, ok, ancora cartascio e allora, ancora pagina 2 e 3 del giornale con la parte politica di Salvini che dice ascolterò Conte senza pregiudizie, però eccolo qua, vedete di nuovo questo appello alla piazza che è stato sottolineato anche dagli altri quotidiani, pronto alla piazza in caso di un governo PD, Movimento 5 Stelle, che è abbastanza inquietante come appello, diciamo. E l'altra cosa interessante è che la tesi di Salvini è che in realtà il governo attuale si ha, dice, in mano a una trentina di senatori renziani, pure loro sanno che non li vota più nemmeno il babbo, sostiene Salvini, e che insiste per l'appunto per andare al voto e dice vorrei si votasse a ottobre, a novembre, sarebbe quindi pronto il nuovo governo, e a dicembre la manovra taglia tasse. E ancora, quando Sallusti gli chiede come mai non si sia dimesso, lui dice non la do vinta ai compagni, resto ministro per difendere i confini, non siamo il campo profughi dell'Unione Europea, basta, sbarchi. E poi ancora, in un ribaltamento proprio del punto di vista, dice io ho accettato la sfida dei Cinque Stelle di tagliare i parlamentari per poi andare al voto, ma loro poi si sono tirati indietro. Questa è la sintesi dell'intervista che trovate sul giornale di Sallusti, io vorrei capire, eccolo qua, posso andare sul touch, eccolo qua, e vi volevo far vedere, perché c'è anche su Libero, parla Salvini, meglio finire in galera che governati dal PD, in realtà non c'è un'intervista su Libero, ma viene riportato il comizio, e poi gli altri due quotidiani. Uno è il tempo, eccolo qua, che in realtà si occupa, diciamo così, di cominciare a lavorare ai fianchi gli ex alleati, segreti i redditi di Premier e Ministri. Il governo Conte, occupato a litigare sui social e in TV, non ha pubblicato i propri guadagni. Dovevano farlo entro la prima settimana di agosto, in regola solo Fraccaro e tre vice. L'altro giornale, il cui titolo è molto interessante, eccolo qua, è La Verità. Il giornale diretto da Maurizio Belpietro, che in realtà fa un passo avanti ulteriore e avanza questa, non si capisce se è più un'ipotesi o se davvero hanno elementi per dirlo, ma sostiene di sapere quali siano i veri piani di quello che lui definisce il bullo, ovvero Renzi, che vuole fare il commissario europeo. Dopo aver attaccato chi nel partito parlava di intesa con i pentastellati, si è intestato il dialogo e ha iniziato a dare interviste all'estero. Il motivo? Punta alla poltrona di Bruxelles. Sa che molti, zingaretti in testa, non vedono l'ora di poterselo levare di torno e tra cinque anni. Ed è interessante questo argomento perché vedremo che, fra l'altro, entro il 26 deve essere indicato il nuovo commissario e che alcuni nei giorni scorsi avevano invece ipotizzato che avrebbe potuto essere proprio l'attuale presidente del Consiglio. Segnalazione ultima è quella del foglio, eccola qua, con un ritratto di Salvini firmato da Giuseppe De Filippi che vale davvero la pena di leggere. Allora, data per letta in qualche modo, vi dicevo, l'intervista di Salvini, ci sono alcuni articoli che vale la pena guardare. Per esempio quello sulla stampa firmato dal quirinalista Ugo Magri, un retroscena così viene presentato, il timore di Mattarella, una crisi senza fine dominata dai tatticismi, quelli che tutto sommato abbiamo visto fino ad oggi. Allora scrive Ugo Magri, dice il Presidente non ha preferenze sulle soluzioni ma vuole tutelare le istituzioni e allora domani, prima che venga sera, Conte chiederà udienza a Mattarella, porgerà le sue dimissioni e così pure. Il 65esimo governo della Repubblica verrà archiviato. Perlomeno questo è lo scenario che al Quirinale viene considerato più probabile, visto come se le cantano i 5 Stelle e la Lega. Solo probabile però, non ancora sicura al 100% perché nulla è chiaro e tantomeno definitivo nelle intenzioni dei protagonisti. Quindi questa fondamentale incertezza pesa moltissimo su ciò che sta accadendo ed è interessante andare a vedere ovviamente anche quello che potrebbe essere l'altro fronte, ovvero quello del Partito Democratico. Ieri appunto anche Romano Prodi se ne era uscito con questa proposta del cosiddetto governo Orsola e che cosa dice sul Corriere della Sera Zingaretti? Sul pressing antiurne sì, ma in aula ci vogliono i numeri e insomma sembra una banalità ma in realtà non lo è affatto. Ed è interessante anche vedere l'intervista al capogruppo del Partito Democratico al Senato firmata da Alessandro Troscino, Marcucci, che dice un'intesa per l'interesse nazionale fico, è imparziale, mi ha impressionato. Insomma prove di avvicinamento fra quelli che fino al giorno prima erano acerrimi nemici. E ancora guardate un po' invece sulla Repubblica dove vi dicevo si fanno addirittura delle prove di possibili nuovi premier e anche in questo caso si citano per l'appunto, vedete, Roberto Fico, ancora Romano Prodi, Enrico Letta, Enrico Giovannini che è stato ministro del lavoro proprio con Enrico Letta, si racconta però di calenda, di calenda il senatore di Firenze che dice si sfilerà, che dice il senatore di Firenze, cioè parla di Matteo Renzi, si sfilerà subito dopo, sono pronto a scommettere. Mentre Prodi per l'appunto in questo retroscena di Goffredo De Marchis apre ai 5 Stelle, Zingaretti frena perché teme la scinzione renziana, anche se in realtà finora l'unico che ha detto espressamente di volersene andare nel caso si facesse l'accordo con i 5 Stelle è calenda, ma ancora più interessante è l'intervista a Boccia, Francesco Boccia, deputato Dem, che dice no al patto con il Movimento 5 Stelle ma se lo facciamo davvero Boschi sia ministro e perché? Proprio per evitare per l'appunto fughe, quindi Boschi, cioè Maria Elena Boschi, dice proprio Francesco Boccia, dovrebbe impegnarsi direttamente con il coinvolgimento di personalità a lui vicine come Maria Elena Boschi Renzi, proprio evidentemente per evitare questi rischi che il Partito Democratico sente molto molto vicino. E a proposito di Maria Elena Boschi che ieri ha mandato un tweet a Salvini che aveva parlato di mummie attaccate alla poltrona e insomma fa vedere che lei tutto è forché una mummia, saluti dal sarcofago e vabbè. Comunque dell'ipotesi Boschi evidentemente si parla non solo, insomma è un'ipotesi che gira, ne troviamo traccia anche sulla stampa, l'ipotesi Boschi ministro per sminare le trappole di Renzi, così appunto a proposito di tatticismi. Sul fatto quotidiano invece si ritorna a parlare di Conte, ma secondo il fatto quotidiano Conte non pensa appunto all'Unione Europea e nominerà presto lui il commissario, così come era stato peraltro auspicato da più parti. Nega quindi di essere interessato a un posto a Bruxelles e dice il nome sarà pubblico. Vi segnalo poi invece e la prendo, eccola qua, dalla verità, un'intervista interessante a Pierluigi Battista, conosciuto come un importante giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, contrario a questo accordo fra PD e Movimento 5 Stelle la definisce una burla della democrazia e dice un governo del genere potrebbe nascere solo per emergenza. Adesso l'emergenza sarebbe che il 34% degli italiani vota per la Lega, questa insomma è la situazione. Manca un minuto alla chiusura e allora vi segnalo ancora dai quotidiani, articoli interessanti da leggere sicuramente eccolo qua, operazione Zigolo Giallo, arriva da Londra e sono alcuni dei brani di questo dossier segreto sulla Brexit, lo Zigolo Giallo, Yellow Armor è questo uccellino di cui si parla il nome in codice e ancora vi segnalo, eccola qua, un'intervista che invece trovate sulla Repubblica all'ex presidente della BCE Jean-Claude Trichet che dice attenzione italiani fate le riforme o la crisi vi colpirà duro e che la crisi colpisca, ahimè già lo stiamo vedendo, lo scrive il Corriere della Sera, turismo cala la spesa degli italiani, la classe media non va in vacanza, in molti oggi saranno tornando, avranno accorciato davvero le loro vacanze e a loro diamo comunque il benvenuto. Ci vediamo fra poco col telegiornale.